E' lo spirito che è cambiato, è cambiato qualcosa nello spirito, nell'approcciare la partita, nel volere a tutti i costi fare una partita, non sentirsi contenti della posizione che viene in classifica, tutte queste componenti che secondo me hanno fatto la prestazione di tutti i partiti. Una ternana attrazione offensiva, bellissimo il trio Ceravolo, Antenucci, non è in avanti? Non è attrazione offensiva anteriore, è tanto l'anteggiamento, perché ho visto che non è il Ceravolo fare dei piegamenti da centrocampisti, perché ci hanno lo spirito giusto, lavorano tutti di squadra, anche Antenucci ha lavorato tantissimo, nonostante ha lavorato tantissimo, ha fatto due volte. I centrocampisti hanno una raddoppiera privilegiare, ripeto, è lo spirito che ci deve essere, questo è quello giusto.